Oggi abbiamo qui questo oggetto, questo oggetto non è un registratore, non è un amplificatore ma è una segreteria telefonica a cassette degli anni 70 questo oggetto ha il legno, la miniera eccetera e non sono riuscito a provarlo perché ha dei connettori assurdi che nonostante tutti i connettori che sono in giro, questi connettori qua io non ce li ho e l'ho messo in vendita un paio d'anni fa non sono mai riuscito a venderlo e quindi a questo punto ho deciso di disfarmene cioè di smontarlo, recuperare i pezzi e buttare via il resto perciò ho voluto farvi questo video di smontaggio della segreteria telefonica adesso fisserò la camera e inizierò a smontare 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti